Cittadini italiani, Istat sta realizzando un nuovo censimento su tutto il territorio nazionale e in alcune città. È fondamentale rispondere ed essere aperti, naturalmente verificando che sia Istat ad entrare nelle vostre case, sarà fondamentale per conoscersi e per migliorare. Viva l'Istat e viva il nostro censimento! Grazie per la visione!